Ciao, qui presenti con Giacomo Galassi, è la musicoltura che ti occupo di? Sono diciamo il segretario, il segretario, sì, 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 il, uno, c'è uno, concretamente cosa fai? Concretamente alla mattina arriviamo in ufficio alle ore 9, ovviamente non sono in questi giorni in tutti i 12 mesi dell'anno, rispondiamo al telefono, ci occupiamo di telefoni, telefoniamo, rispondiamo ancora al telefono perché squilla spesso, tutto quello che è amministrazione, conti, conteggi, soldi. A proposito dei soldi, ci hanno detto che lo sponsor di musicoltura 2008 sarà l'IKEA, secondo lei il pubblico sarà disposto a costruirsi da solo le serie? Ma penso di sì, pur di risparmiare con l'aria che tira penso proprio di sì, non so sul menù svedese se sarà l'accordo. Lo sferistario è il tempio della lirica, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh, corri cavallo, corri ti prego. Allora, a musicoltura 2007, Lavanoni, Vecchioni, Mingardi, pensi che ci sarà futuro per questi tre giovani? Sì, 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 questi qua sono i miei stagisti, penso che non ci dovrebbero essere problemi. Vabbè, veniamo con l'ultima. Musicoltura 2007 allo sferisterio, puoi indicarmi un'alternativa intelligenza a questa noiosa serata? Drogatevi, drogatevi. È tutto.